Oroscopo Paolo Fox Oroscopo Paolo Fox, 18 settembre, le stelle ai fatti vostri Oroscopo Paolo Fox, le stelle del giorno. Un ritorno in grande stile per i fatti vostri. Il programma di Rai 2 che porta la firma inconfondibile di Michele Guardi è tornato oggi, lunedì 18 settembre, dopo la pausa estiva. Paolo Fox ha chiuso come di consueto il programma della seconda rete con l'oroscopo del giorno. Con un castro innovato, la stagione 2017-18 di I fatti vostri si preannuncia ricca di novità e innovazione. Punto fermo per programma anche oggi, lunedì 18 settembre, l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo ha continuato a offrire consigli e suggerimenti per i 12 segni dello zodiaco. Il trio dei conduttori dei fatti vostri ha visto due cambi importanti. . 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